Eva Robbins, domani esce Cattive Inclinazioni, questo film di cui si sta parlando moltissimo, che ruolo hai? Si può dire in televisione sono una psicopatica che ama le donne e cantante rock, un po' in disarmo. Ecco, è un cast di tutte donne, c'è te, Florinda Bolkan, Elisabetta Rocchetti, Elisabetta Cavallotti, tante donne. Come ti sei trovata a trovare in questo cast? Beh, devo dire che ci siamo divertite molto tutte insieme e poi ne amassero almeno un paio. Ha detto, ci sono state gelosie? No, no, perché avevamo ognuno il suo spazio e ognuno aveva il suo truccatore personale, aveva il suo psicologo, l'esorcista. Ecco, domani esce questo film, se ne sta parlando parecchio, è un genere un po' che torna. Che vuol dire sentire bisogno di questo tipo di genere nel cinema italiano? Ah, lo sapremo dal primo weekend nelle sale, se ce n'era bisogno. Ecco, quali sono i tuoi prossimi progetti? Una doccia, più tardi. Una doccia più tardi. Quella che si vede nel film. Ah, è una doccia nel film. E invece professionali? Professionali non ne ho, ma può essere che magari siamo in attesa di nuove esperienze. Di questo film qual è stata l'esperienza più bella? È il momento che, beh, non si può dire, però è il momento cruciale del film, quando finisce. Ecco, c'è il grande mistero su questo, su chi è l'assassino, chi non è, vero? Beh, sì, ci sono diversi colpevoli, diciamo, siamo una concomitanza di colpevoli. Vi ringraziamo per essere stata con noi, appuntamento domani in tutte le sale d'Italia, con cattive inclinazioni di Pierfrancesco Campanella. Bene, a voi, ciao.